Che è più costosa che c'ho io, vale 150.000-200.000 euro la bottiglia. Ragazzi, se sbanca, siamo qui al Victor, l'Inter ha appena perso la Champions. Allora, molto lo dico io. In giro fanno tutti i fenomeni, come orologi, soldi. Se vi faccio vedere la mia collezione di orologi, voi cascate per terra svenuti. Svenuti! La sobrietà. Ma questo ci vado a fare la spesa. Ma che ne so, 20-30.000 euro. Patrimonio! È più grosso di quello dell'UNESCO. Grazie.